C'ho un mi so che mi perseguita. Ma come? Mi so, c'era morto. Dove si fa, no? Eh. Quanti stupiti. E' ancora possibile dunque scrivere una storia per i sbancati e partecipare a questo grande successo della serie? Sì, un grande successo che tra l'altro lo possiamo anche vedere su Amazon Prime e già è un successo che si è affinito sulle piattaforme. Sì, la scadenza era il 14, adesso abbiamo deciso di, come dire, di posticipare la 31 di dicembre visto che comunque ce l'hanno chiesto, alcuni che non facevano in tempo a consegnare la propria storia, ci teniamo, già ne sono arrivate diverse, però ecco, averne di più significa, come dire, coinvolgere più il popolo fanese perché questo è un po', diciamo, questo giro ci siamo voluti dedicare a dare la storia a chi ha fantasia dei nostri cittadini oppure del circondario fanese, ecco questo è un po'. Vi basterà un racconto o servirà una vera e propria sceneggiatura? No, assolutamente non serve una sceneggiatura, anzi, noi non vogliamo una sceneggiatura, ma vogliamo un racconto, un soggetto anche di una pagina, tanto per capire la storia, per capire dove vuole andare la storia. Chiaramente, visto che gli sbancati adesso sono usciti anche a livello nazionale, ci vorrebbe creare una storia che sia poi, come dire, adattabile a un pubblico più vasto, non che sia prettamente fanese, oppure adattare la storia fanese a un pubblico un pochino più allargato, che è anche fuori delle nostre mura fanesi, visto che è uscito. Certo, ma ne uscirà una serie? Ma guarda, l'idea è che siamo un po' indecisi di cosa fare di questo soggetto. Possiamo inventarci una serie da un racconto oppure fare direttamente il film. Diciamo che, se devo decidere in questo momento, deciderei per la sala, perché l'idea è quella di rilanciare la sala cinematografica, di riportare il pubblico in sala. Abbiamo parlato a lungo con Carmine Delmasetti anche di questo discorso di riportare il pubblico in sala, quindi può darsi che sia uno degli obiettivi fare un lungometraggio. Una volta deciso questo racconto, poi farete anche una serata ad hoc? Sì, diciamo che i dieci finalisti parteciperanno a Un The Winner Is, che praticamente è un... leggiamo il vincitore in una serata dedicata proprio a questo evento, e durante questo evento, che si farà sicuramente al Cinema Masetti, si proietterà un mix di tutti e tre i film. Quindi partecipate, potete trovare il form per partecipare sul sito di EgoFilm, www.egofilm.com, e mandarci la mail, che c'è scritta nel regolamento, c'è un regolamento da rispettare chiaramente. Non devono essere professionisti, devono essere amatori, perché i professionisti noi li escludiamo anche. perché c'è questo premio di 500 euro per chi vincerà, quindi diciamo che sarà un compenso, diciamo, equo per aver scritto il soggetto, poi la soddisfazione di vedere poi il film in sala. Cuccia, l'amante! Oh signor mia, è chissaria! Eh sì, ma mica te posso dire, ma scherzi, mica sono matta. Ma come frega, io ho i spaghezza alle buraspe, mi importano a me, ma se il meldeci è un meldeci, se ho avuto i meldeci non importa.